Eccoci nell'appuntamento dedicato al FAI per questo 2014, il mio saluto è il ben trovati in studio a Lidia Rui, delegata FAI per il territorio e la cultura. Buongiorno Lidia. Buongiorno. E buongiorno anche al presidente dell'associazione Cittadini per il recupero del Gabelli, Marco Rossato. Buongiorno. Ben trovato. Allora Lidia, il FAI ospita in queste nostre puntate questo comitato, questa associazione in difesa di una scuola che rappresenta un po' la storia della città di Belluno. Sì, sappiamo che il FAI è Fondo Ambiente Italiano, si preoccupa di tutto il nostro patrimonio artistico, architettonico, ambientale, pasaggistico eccetera. E applicato qui a Belluno è proprio il caso di parlare della scuola Gabelli, che è un manufatto eccezionale, ma non soltanto dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista didattico. Cioè, forma e funzione si sono incontrate, poi Marco spiegherà molto meglio di me. E mi sembra giusto partire, visto che siamo ancora in clima di auguri, il FAI fa un augurio veramente convinto e forte, perché il discorso del Gabelli possa essere recepito non solo dalla popolazione, ma anche dalle istituzioni. Ecco, dicevi, prima che entrassimo in diretta, che questo edificio risale più o meno al 1934. Sì. Quindi ha una caratteristica del tutto particolare, Marco. È del tutto straordinaria, direi più che particolare, perché resta tutt'oggi l'unico edificio in Italia, che è la concretizzazione di un'idea educativa e didattica che la Pierina Boranga ha voluto portare a Belluno, rientrando dalla sua esperienza fatta alla scuola della Pizzigoni, la scuola rinnovata di Milano. Un'esperienza didattica molto particolare, che ha comunque disegnato, si può proprio dire disegnato dal punto di vista funzionale, dal punto di vista dei dettagli, questa scuola, che come ricordava prima Lidia, è una scuola straordinaria dal punto di vista architettonico. Non lo è solo, per come la vede la nostra associazione, da questo punto di vista. Per noi è un patrimonio vero della cittadinanza di Belluno, perché per decenni in questa scuola si è concretizzata una sperimentazione, anche questa, didattica, unica in Italia. Ci tenevo a ricordare che nel giugno del 2013 è stato intitolato il giardino proprio a Pierina Boranga. Esatto, e di questo dobbiamo ringraziare l'amministrazione attuale, e questo ha, a nostro modo di vedere, colmato un vuoto, un vuoto incomprensibile, perché nel momento in cui, ormai quasi cinque anni fa, perché era il maggio del 2009, c'è stata un'ordinanza di chiusura dell'edificio, questa è stata estesa anche su dei rischi che lasciano francamente un po' perplessi anche al giardino stesso e alla palestra. L'apertura del giardino non fa altro che riconsegnare uno spazio, uno spazio importante, perché non è un banale giardino, è un vero e proprio orto botanico, per la varietà di piante, per la ricchezza delle stesse, che consente anche ai cittadini bellunesi di poter godere di uno spazio così unico, al di là del fatto che poi quest'era uno spazio costruito dalla Pierina Boranga, proprio per dar sostanza, per dar corpo al suo progetto educativo. Parliamo un po' della vostra associazione. Associazione Cittadini per il Recupero della Gabelli significa che questa realtà si è unita insieme, ma la realtà di cittadini che fa parte di questo, penso anche la maggior parte di coloro i quali hanno frequentato la Gabelli. Ma io non ho frequentato la Gabelli, l'ho frequentata da genitore, l'ho frequentata da genitore praticamente in maniera continuativa per dieci anni, perché ho avuto due figli che uno dietro l'altro sono stati in quella scuola, e di fatto, lo posso dire senza darne contenuti polemici, ho visto il lento degrado della scuola in questi dieci anni, il lento degrado non di cose eclatanti, non di danni particolari, ma il lento degrado che deriva, ahimè, dalla mancanza anche della manutenzione ordinaria a cui sono un po' soggetti tutti gli edifici pubblici. La chiusura poi in realtà ha definito un passaggio, tra virgolette, che noi oggi dopo quattro anni e mezzo e all'inizio del quinto inverno valutiamo essere quantomeno poco opportuno, poco opportuno nel senso che bisogna che mi spieghi bene. Nel momento in cui è stata chiusa, effettivamente è stata chiusa tenendo conto di quelli che erano i rischi per l'incolumità delle persone che avrebbero dovuto frequentarla. In realtà una chiusura così, direi, drastica, che come ricordavo prima è stata estesa anche al zardino e alla palestra, comportava in sé il rischio concreto che un fabbricato del genere non più abitato venisse abbandonato a se stesso. Ed è questo il grido, tra virgolette, un po' di allarme che abbiamo cominciato anche assieme al FAI e ho piacere anche di ricordare un'altra associazione perché a noi sta in qualche modo affiancandosi proprio con le nostre stesse preoccupazioni che è quella di Antiananziani. È un po' quello che stiamo dicendo da un anno a questa parte. Dopo tanto tempo un edificio così, senza un regolare controllo, senza un viverci all'interno, ha un decadimento, un deterioramento che rischia di essere veramente molto veloce e con una velocità esponenziale. E questo è un po' quello che stiamo cercando di chiedere all'amministrazione. C'è un cambio di politica, non sul recupero, non sul progetto a lungo termine, ma sulla manutenzione. perché la preoccupazione è quella che vi siano elementi che procurano danno, che non tenuti sotto controllo possono veramente danneggiare in maniera seria, non dico irreparabile perché non lo sarà, ma certamente in un modo tale che ricostruire quel fabbricato e renderlo nuovamente funzionale, da un lato comporterà spese maggiori, dall'altro ci sembra anche, come dire, un segnale di scarsa attenzione a quello che comunque per noi resta un patrimonio della città. Ecco, le scuole sono di proprietà del comune, quindi ci dovrebbe essere... Tra l'altro ricordo che i progettisti erano due tecnici comunali, fratelli Zadra, a suo tempo. Allo stato attuale che risposte avete avuto dal comune? Ma devo dire che sotto un certo profilo generale il 2013 è stato un anno di buoni segni rispetto al passato. Abbiamo già ricordato come a giugno si è stato aperto il giardino, è stato programmato un intervento di riapertura anche della palestra. Direi che poco importa perché sappiamo in che tempi viviamo che magari avremmo spiccato fosse già aperta oggi, lo sarà il prossimo anno. Oggi scade anche i termini per un bando che il comune di Belluno ha pubblicato per individuare il gruppo di progettisti che dovrà valutare quella che è la sicurezza antisismica del fabbricato e cominciare a progettarne a recupero. Quindi questi sono tutti segni concreti che noi non vogliamo ignorare. Però i tempi sono molto lunghi, è inutile che ci poniamo delle attese non razionali. Quindi con la prospettiva di tempi molto lunghi, quello che noi chiediamo al comune, come ricordavo prima, è un cambiamento di politica che a fianco dell'obiettivo finale di recuperare un fabbricato del genere, tende anche a salvaguardarlo. Che utilizzi potrebbe avere il recupero di questo edificio? Devo dire, grazie a Dio, questa resterà una scuola. Il Consiglio Comunale si è espresso, lo ha fatto, tra l'altro voglio ricordarlo, su iniziativa di un consigliere comunale, Biagio Zannone, che è anche il vicepresidente dell'associazione. Su questo si è già espresso da tempo. I contenuti di quella scuola saranno certamente didattici, ma in senso lato. L'auspicio, perché di questo stiamo parlando, che noi abbiamo è che a fianco della recuperata scuola Gabelli vi sia la possibilità di mettere in piedi delle altre attività, come per esempio il Museo della Scuola, di cui da tanto tempo si parla in provincia di Belluno. Comunque delle realtà che si integrino proprio col progetto didattico che continuerà sul segno, speriamo, della Pierina Boranga. Certo. E il FAI, Lidia, che cosa farà accanto a questa associazione? Il FAI sostiene, partecipa, collabora, ovviamente nei limiti delle sue possibilità, delle sue competenze, però vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Siccome il FAI è molto attento anche all'ambiente, ricordiamoci che la scuola Gabelli è una presentazione anche dal punto di vista urbanistico, fondamentale, si arriva dalla stazione, è anche costruita proprio in un luogo strategico, per cui sarebbe un biglietto da visita eccezionale per l'intera città di Belluno. Allora, io ringrazio i miei ospiti, sapete che se avete qualche segnalazione e comunicazione che riguarda il recupero del Gabelli, noi siamo qui per comunicarla. Grazie a Lidia Rui, delegata del FAI per il territorio e la cultura, e grazie anche al presidente dell'Associazione Cittadini per il recupero del Gabelli, Marco Rossato. Grazie ancora. Prego, speriamo anche di sentirci presto con delle novità. Me lo auguro. Grazie.